...di Taranto per l'omicidio di Sara Scazzi, la 15enne uccisa nell'agosto del 2010 ad Avetrana. Oggi erano previste alcune audizioni di testimoni, ma alcuni di loro non si sono presentati, mentre all'ascolto di altri ha rinunciato il pubblico ministero. Oggi erano previste le audizioni di una decina di testimoni, ma alcuni di loro non si sono presentati, mentre all'ascolto di altri ha rinunciato il pubblico ministero chiedendo l'acquisizione dei verbali, delle sommarie informazioni testimoniali rese durante le indagini. La prossima audienza è fissata per martedì 17 luglio. Tra le testimonianze più attese è quella del fioraio Giovanni Buccolieri, l'uomo che prima riferì agli inquirenti di aver visto quel pomeriggio la scena del rapimento di Sara ad opera della zia Cosima Serrano, una delle due imputate insieme alla figlia Sabrina Misseri, entrambe detenute con le accuse di concorso in omicidio volontario, sequestro di persona e soppressione di cadavere, che successivamente, dicevamo, ritrattò spiegando che si era trattato di un sogno. Ed ora ci occupiamo del processo per il delitto di Avetrana. La nuova audienza di stamani si è conclusa con il presidente della Corte d'Assise di Taranto che ha disposto di completare l'ascolto di tutti i testimoni dell'accusa nell'ultima audienza prima della pausa estiva di martedì prossimo, quando potrebbero essere interrogate anche le due imputate dell'uccisione della quindicenne, Sara Scazzi, Cosima Serrano e sua figlia Sabrina Misseri. Scivolata via in pochi minuti l'ultima audienza, la diciannovesima in Corte d'Assise a Taranto, per il processo dell'omicidio di Sara Scazzi. Gli undici testimoni, sette carabinieri del Rosso e quattro civili, questi ultimi conoscenti del fioraio Giovanni Buccolieri, non sono stati escussi con l'accordo delle parti. Per i carabinieri sono state acquisite delle schede riassuntive sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel corso delle indagini e per i testimoni i verbali di sommarie informazioni stilati all'epoca dei fatti. Un'importante novità però è emersa proprio a conclusione dell'udienza. Il presidente della Corte, Rina Trunfio, ha chiesto che nella prossima audienza, fissata per il 17 giugno, l'ultima prima della pausa estiva, venga esaurita la lista dei testimoni citati dalla pubblica accusa. Questo vuol dire in sostanza che potrebbero essere ascoltate, se i tempi dell'udienza lo consentiranno, anche Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano. Entrambe però, essendo imputate e nella fattispecie a titolo principale, potrebbero avvalersi, e certamente lo faranno, della facoltà di non rispondere. Tuttavia dovranno comunque rispondere in aula nell'udienza del 18 settembre, la prima dopo la pausa estiva, quando esaurita comunque la lista dei testimoni d'accusa, si passerà ad ascoltare gli imputati. Resta fuori da tutto, o quasi, Michele Misseri. L'accusa non lo cita come testimone, perché lo ritiene inattendibile e non è imputato di omicidio, ma solo, si fa per dire, di soppressione di cadavere.